Le Marche in moto è assolutamente un territorio che si presta per questa attività, per questo sport e per questa tipologia di turismo che permette di percorrere itinerari strade non possibili altrimenti con i mezzi classici. E questa è la proposta di GoBiker, tour operator specializzato in viaggi in moto che causa emergenza coronavirus e lo stop agli spostamenti sulle lunghe distanze e almeno per buona parte dell'estate ha deciso di investire sul territorio. Tre i percorsi proposti da un tour dei Sibilline hanno attraversato da nord a sud delle Marche a un viaggio con tappe anche nelle regioni limitrofe. Le partenze sono fissate a partire dal 19 giugno e proseguiranno fino a fine ottobre. I tour sono pensati per gruppi fino a un massimo di otto persone, così da garantire rispetto di tutte le norme di sicurezza. Tutti i viaggi in moto all'estero sono già collaudati, li conosciamo. In alcuni percorsi le strade sono uniche da percorrere, quindi non è difficile. I focus sono dettati un po' da le maggiori attrazioni turistiche da vedere. Il territorio che tu conosci perfettamente e che vuoi offrire, studiare l'offerta che vuoi dare al tuo cliente, a chi viene in viaggio con te, nel territorio che conosci è particolarmente difficile perché devi a volte escludere delle cose a cui tieni moltissimo. E quindi diventa anche una cosa più appassionante ancora. Che tipo di tour avete organizzato? Allora abbiamo diciamo tre tour principalmente nelle Marche, uno il più importante, le strade di Marche, l'abbiamo chiamato, una a quattro giorni e tre notti dal nord al sud delle Marche, quindi partendo dalla zona del Monte Feltro, attraversando il parco regionale del Furlo fino alla Gola di Frassassi, la zona di Frassassi, scendendo poi tutti i sibillini fino alla piazza del popolo di Ascoli Piceno. Poi abbiamo una due giorni sibillini adventure dedicata a una particolare categoria di motociclisti fuoristradisti, è un tour di due giorni, tre giorni principalmente, due notti, di un giorno e mezzo di percorsi fuoristrada all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, chiaramente su percorsi e su tratti fuoristrada permessi dalle autorità. E poi un tour di sei giorni che parte e ritorna dalle Marche, sforando anche in Umbria, Campania e Abruzzo, che è storia d'Italia, un tour appunto dedicato al centro-sud d'Italia, ma con principalmente partenza e ritorno nelle Marche. Il mondo del turismo punta a ripartire dopo uno stop di tre mesi che ha messo in ginocchio il settore, con il 100% di cancellazioni. I mesi di giugno-luglio saranno un test e se tutto procederà bene, ad agosto si potrà vedere una ripartenza del turismo tra l'Italia e i paesi limitrofi. Se poi non ci sarà riaccendersi dell'emergenza, da settembre fino a dicembre potrebbero riprendere anche i viaggi a medio e lungo raggio. Ma le stime attestano che per le agenzie di viaggio e i tour operator ci sarà un ritorno non superiore al 30%. In attesa di scoprire cosa accadrà, il settore lamenta un mancato sostegno da parte del governo e boccia il bonus vacanza. Completamente bocciato, perché è evidentissimo che è un bonus assolutamente difficile da utilizzare. Per una fascia che purtroppo economicamente non si può proprio permettere di andare in vacanza, peraltro con una modalità estremamente complicata e soprattutto raggravando anche di più l'aspetto finanziario, perché poi fondamentalmente chi questo bonus dovrebbe soffrire nel settore lo deve prima anticipare e poi riprendere. Già da lunedì ci sono tantissime catene alberghiere con cui anche noi abbiamo contratti che non lo accettano, non lo rifiutano. E il mondo di tour operatora anche lì lo sta completamente rifiutando. E le richieste a fondo perduto per semplicemente il fatturato che abbiamo perso, né di più né di meno, cosa che peraltro si fanno tutti gli altri paesi a cominciare dalla Francia. La seconda cosa, il patrimonio umano dei nostri collaboratori è fondamentale per la ripresa del settore, quindi specialmente per la cassa di integrazione indera va assolutamente allungata questa fascia che oggi prevede solo 18 settimane e che non è assolutamente sufficiente. Dobbiamo arrivare almeno fino a novembre-dicembre, altrimenti purtroppo ci saranno non solo decine di migliaia di collaboratori licenziati, ma soprattutto perderemo, che è la cosa più importante, il bene più primario che è la conoscenza e il know-how di queste persone. Grazie a tutti.